Sono Cesare Castellana, rappresento la seconda generazione del gruppo Rossargilla, siamo una rivendita di materiali idili e operiamo nella provincia di Taranto. Abbiamo tre sedi, a Martina Franca ce ne abbiamo due dove c'è uno showroom e la rivendita storica dove vendiamo i nostri materiali per l'edilizia e abbiamo una filiale giù a Taranto aperta un anno e mezzo fa. La caratteristica della sostenibilità per noi è ormai diventata molto interessante e anche l'utenza comincia ad apprezzare questo tipo di argomento perché comunque c'è molta sensibilità in questo tema. Il servimento sostenibile comincia a prendere piede sul mercato ma ancora c'è molto da lavorare in questo senso per stimolare questo tipo di sensibilità. In rivendita abbiamo previsto degli spazi dedicati affinché possiamo presentare al meglio i prodotti che hanno caratteristiche sulla ecosostenibilità. In questa fase di acquisizione siamo rimasti un po' sorpresi perché non ci aspettavamo il cambio di logo sui sacchetti. Comunque il mercato sta rispondendo in modo positivo.